Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti e di poche ore fa la notizia che le pensioni di giugno saranno anticipate come era stato pronosticato. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. È ufficiale, le pensioni del mese di giugno, spiega in una nota, poste italiane verranno accreditate a partire da mercoledì 26 maggio per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto banco poste, di una poste pay evolution. Dunque come è avvenuto per i mesi precedenti, anche per il mese di giugno le pensioni saranno anticipate. Come ben sappiamo la diffusione del covid-19 e delle sue varianti sta lentamente decrescendo grazie agli sforzi di tutta la popolazione. Ma i virologi e i scienziati consigliano di non abbassare comunque la guardia con le misure di prevenzione e di contenimento. Proprio per questa ragione anche per il mese di giugno sono state anticipate le pensioni a maggio con un calendario scaglionato, proprio come è avvenuto negli scorsi mesi. Vediamo dunque il calendario ufficiale per il ritiro della pensione di giugno allo sportello. Partiamo con i cognomi dalla A alla B mercoledì 26 maggio, cognomi dalla C alla D giovedì 27 maggio, cognomi dalla E alla K venerdì 28 maggio, cognomi dalla L alla O sabato mattina 29 maggio, dalla P alla R lunedì 31 maggio e infine cognomi dalla S alla Z martedì 1 giugno. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!